Da dove lo prendi il ferro? Allora, se vogliamo dare una risposta scientifica, diciamo subito che gli studi scientifici non dimostrano presenza di differenza nella incidenza di anemia da carenza di ferro tra i vegetariani e i non vegetariani. Questo perché è vero che la carne contiene ferro, ma è anche vero che le piante contengono molto più ferro della carne. Tutte le piante, ma in particolare sono molto ricchi di ferro i legumi. I legumi sono proprio una fonte meravigliosa di ferro, per quanto appunto il ferro è presente in tutte le piante. Però, ad esempio, alcuni miti, prendiamo per esempio il mito degli spinaci, non è un mito vero, nel senso che in realtà il ferro contenuto dagli spinaci non è così tanto e soprattutto è difficilmente assorbibile. Sono ben alte le fonti di ferro appunto per i vegetariani, ripeto, tutti i legumi, le verdure a foglia, alcuni tipi di frutta. In generale, comunque il ferro vegetale, come dicevo, è molto più abbondante. Quello che viene obiettato è che il ferro della carne è ferro M e quindi il ferro per eccellenza e il ferro invece vegetale è ferro non M. Allora, intanto, non tutto il ferro della carne è ferro M, ma solo il 40%. Tra l'altro, il ferro M è sempre più imputato di causare problemi alla salute. Nel senso che, per esempio, alcuni dei dati che imputano alla carne di favorire la comparsa di tumori intestinali identificano anche nel suo contenuto di ferro M questo tipo di azione. In generale, il ferro M è un ferro che non ha degli effetti favorevoli per l'organismo. Il ferro non M, invece, il ferro vegetale ha una variabilità di assorbimento, nel senso che può essere assorbito pochissimo, ma può essere assorbito anche esattamente quanto il ferro M. Perché è molto variabile, molto sensibile alle interferenze. Per dire una cosa praticissima, come si fa a far sì che il ferro non M venga assorbito come ferro M? Basta aggiungere un po' di vitamina C o comunque mangiarlo assieme a dei cibi ricchi di vitamina C, come possono essere non solo il limone, ma anche i peperoni, i pomodori, i kiwi e altro. O bere un po' di acqua e limone a pasto. Questo garantisce che tutto il ferro non M venga assorbito quasi come il ferro M. E quindi bisogna fare attenzione, perché siccome il ferro nei vegetali è molto, molto più abbondante rispetto ai cibi animali, si rischia di andare in eccesso di ferro, perché il ferro è un minerale che si deposita nell'organismo. Non bisogna esagerare con queste pratiche che massimizzano l'assunzione del ferro vegetale, altrimenti si rischia appunto di avere un eccesso di depositi di ferro nell'organismo, che si è visto che è un fattore di rischio per molte malattie degenerative, in quanto in qualche modo favorisce quello che si chiama stress ossidativo, cioè l'azione, la formazione e il danno da parte dei radicali liberi.